L'eccellenza nel food è un insieme sicuramente di cose. Innanzitutto la capacità di un prodotto di avere una storia, una passione che comunque lo identifica, che lo porta ad essere diverso dalla media, a distinguersi, a dare un plus emozionale che altri prodotti non danno. Un prodotto eccellente deve essere un prodotto che ricerca la qualità, ma la qualità ad alto livello. Una qualità che comunque è data dalle materie prime che portano alla realizzazione di un prodotto, ma anche allo studio, all'investimento di capitali, di risorse umane e di risorse anche culturali che si devono comunque mettere alla base di un prodotto che comunque si identifichi e si contraddistingue. La cateta delle eccellenze deve essere innanzitutto un'occasione formativa dove sensibilizzare i consumatori sull'utilizzo e la conoscenza del cibo e quindi imparare a testare, ad avere il gusto. Ma che cos'è il gusto? Il gusto è la capacità di discernere attraverso proprio l'esperienza quelli che sono i cibi di qualità e questo è fondamentale. E quindi per me la cateta delle eccellenze deve essere il punto di partenza per promuovere, far conoscere quelli che sono i prodotti della nostra meravigliosa Italia e i produttori che lo fanno con passione e con grande capacità, esperienza e che siano ancorati anche alla tradizione e che abbiano una storia da raccontare.